Car Pino, sai perché la gente non va nelle piazze a protestare per il degrado morale, per la crisi economica e ora per i clandestini? Perché abbiamo tutti la pancia piena ancora troppo piena. Ciao Margherita da Conegliano Vento. La pancia piena dica tanto, eh. Se continuiamo così ci sono famiglie che non riescono a tirare alla fine del mese, famiglie che non riescono a mandare i bambini a studiare, non riescono a mandare i figli all'università, e poi l'università che cazzo serve in questo paese? Sai scappare poi? C'è? Ciao Grande Pino, sono la figlia di un batterista Roccapilli e volevo chiederti cosa ne pensi di artisti come Eddie Cochran, Gene Vincent e Chuck Berry. Una paraccia da Sabrina. Come on, è un bar? Grande Eddie Cochran. Eddie Cochran è un altro che è molto giovanissimo. Cioè hai nominato dei capi salvi del rock'n'roll. Grande scuola, ci sono cresciuto con questa musica. Ciao Pio Pino, volevo solo dirti che sei stato un grande controlievo dai chiambretti. Un saluto Martina, dieci anni, da sezze. Ciao Martina. Ciao Pino, gli ultimi film di Zalone, Fissio e Sica, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno incassato 400 milioni di euro. Pensa cosa si poteva fare di utile con quei soldi fra bambini poveri e cani abbandonati. Ciao D'Andrea92. Sicuramente, ma questa è l'Italia. L'Italia vuole, solo queste tamarrate vuole. Adesso fanno anche un programma sui tamarri. Che bel paese l'Italia. E vedrai che avrà pure successo. Ultimo sms. Ciao Pino, ho vent'anni e posso dire con certezza che la mia generazione può gridare senza paura. Siamo i martigiani dell'oblio. Non credo più nella democrazia, né in questo paese. Abito a dieci minuti da bossi e ogni giorno piango tutte le persone che lo acclamano. Non credo più negli italiani. Fan culo a tutto. L'unica certezza che ho è la musica che ogni giorno mi salva dalla follia. Un abbraccio. Ci sono un sacco di questi ragazzini che non sono degli elementi tantissimi, ma hanno risvegliato.